Gordiale di saluto, buongiorno e benvenuti alla resegna stampa del mattino, occhio ai giornali come sempre sul canale 17 di Fano TV. Allora siamo qua come tutte le mattine pronti per sfogliare i giornali che abbiamo in edicola, abbiamo preso sul nostro touchscreen che troverete in edicola, ma come sempre partiamo dal santo di oggi, il santo di oggi è Santa Pelagia di Antiochia, il sole sorgerà alle 7 e un quarto e tramonterà alle 18 e 37. Andiamo subito a vedere il tempo. Questa è la situazione attuale del radar perché ci sono ancora delle piogge oggi venerdì 8 ottobre, delle piogge su tutta la regione Marche, vedete questa è l'ultima immagine del radar alle 6.50, quindi 10 minuti fa il verde e il giallo, sono i colori predominanti, verde pioggia, giallo pioggia intensa. Andiamo però a vedere il bollettino, il bollettino di oggi, eccolo qua, il bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede ancora ancora nella mattinata, come abbiamo visto tra l'altro poco fa, piogge continue diffuse insistenti sul settore però centro-meridionale della regione, i fenomeni si esauriranno nel corso del pomeriggio, domani ancora pioggia sul Pesarese però in particolare e l'Anconetano invece sarà interessato domenica da queste precipitazioni con isolati rovesci nel settore centro-settentrionale, poi condizioni di miglioramento per lunedì 11 e martedì 12 con cielo prevalentemente sereno. Di maltempo parleremo tra poco perché come vedremo in particolare nelle pagine di Ancona ci sono polemiche per le scuole chiuse, per questa allerta meteo forse un po' troppo esagerata rispetto a quello che poi è successo, ma d'altra parte diciamo sempre il meteo o la meteo non è una scienza esatta e quindi a volte ci si prende a volte no in base ai dati che si ha a disposizione. Intanto andiamo a vedere i titoli delle notizie, partiamo come sempre dal Corriere Adriatico, questo è il giornale di Pesaro, l'edizione pesarese, bonus case, ingorgo in comune, il comune è ovviamente quello pesarese, pratiche lumache, i liberi professionisti lamentano lentezze anche per un appartamento, difficoltà di accesso al portale, caro Prezzi, in Albania e Kosovo si va addirittura adesso per cercare le impalcature, mentre come sul maltempo la strage degli alberi raffiche a 95, raffiche di vento fino a 95 chilometri all'ora e poi ci sono notizie in breve sulla prima e di spalle invece, ne parleremo tra poco, nuove capienze per stadi al 75%, discoteche 50% e cinema 100%, quindi sono le aperture tra virgolette dall'11 ottobre per chi vuole andare allo stadio in discoteca e al cinema. Mentre sotto Piada Marina ha chiuso però c'è un bando pubblico per l'area, mentre sotto Coppa, qui sarebbe Faro ma c'è un refuso evidentemente il titolista fanese, quindi Coppa Fano ma è Coppa Faro, la panoramica si trasforma in un circuito. Andiamo subito sul carino di Pesaro invece, il maltempo anche qui in primo piano sulla fotonotizia gli schiaffi del maltempo, piogge e vento sferzano la provincia, danni e mareggiate. Poi la buona notizia invece è qua continua il calo dei ricoveri, prof sparita scattano le ricerche, ha 58 anni e di Montefalcino insegna a Fano ma mercoledì non è arrivata a scuola ed è adesso allarme. Piazza Redi, sempre a Pesaro ai 13 anni il vero capo della baby gang, droghe e furti lui c'è sempre. Acqua in classe invece disagia a Fano, la scuola è la Rodari, gli alunni mandati a casa. A Montecchio vuole farmaco, poi aggredisce la guardia medica e sempre da Fano, tentata violenza tra gli scogli, è stato condannato. In fondo invece lo sporto e con il basket Jones entra negli annali, da record l'11 su 11 al tiro e il calcio, la visse, torna alle origini maglia di cent'anni fa. Mentre il carrino di Ancona, come dicevamo, allerta meteo, è un buco nell'acqua, scuole chiuse dopo il bollettino, la protezione civile dice noi non abbiamo forzato nessuno a fare le ordinanze. E allora andiamo a vedere un po' quello che è successo, partiamo intanto da questa bella fotografia che porta la firma di Andrea Amici, è una foto scattata appunto, guardate che bello, ci sono tutti gli elementi, la pioggia, i fulmini, insomma il temporale. Ma concentriamoci su quello che scrive Pier Francesco Curzi per farvi capire un po' come sono andate le cose. C'è stata questa allerta arancione di cui abbiamo parlato anche noi e ci eravamo preparati così come un po' tutti. Insomma, l'allerta arancione annunciata per la prima mattinata di ieri, che è arrivata però un po' scolorita al posto di arancione, è un po' scolorita, pioggia e vento non hanno provocato grossi danni in città e in provincia la preoccupazione maggiore per gli esperti della regione, della provincia, scusate, della protezione civile delle Marche era legata soprattutto all'aspetto idraulico, ossia pioggia abbondante che potenzialmente erano in grado di innescare frane, smottamenti e ingrossare i fiumi con il rischio poi di esondazioni. Ma dall'alba di ieri mattina, quindi alle 8 del mattino fino all'ora di pranzo, si temeva il peggio, peggio che per fortuna non è arrivata ma quell'allerta ha fatto sì che molti comuni, alcuni comuni Ancona, Iglesi, Senigallia, Osimo e Falconara decidessero per tempo con un'ordinanza di chiudere tutte le scuole con inevitabili ovviamente disagi per le famiglie. Però ecco, come si difendono in particolare i sindaci, i sindaci delle città che hanno chiuso le scuole? Fanno per esempio, pur essendo stata bersagliata di richieste perché tutto attorno, insomma, Senigallia era arrivata la notizia che avrebbero chiuso, così come in altri posti, anche insomma il Comune di Fanno è stato costretto in qualche modo a scrivere che le scuole rimanevano aperte, ecco, perché tante erano le richieste. Comunque i sindaci dicono abbiamo pensato alla vostra sicurezza. La Mancinelli in particolare, il sindaco di Ancona dice, lei non ha voluto commentare tutti gli insulti che ha ricevuto su Facebook, sui social, però dice, capita raramente di ricevere dalla protezione civile una simile allerta, l'ultimo arancione era arrivata tre anni fa. E poi invece il sindaco di Osimo Pugnaloni dice, ricordo quanto è accaduto all'ex sindaco Mangelardi, il sindaco di Senigallia, che adesso è finito a processo e quindi insomma il problema è questo, in realtà, è proprio il fatto che ormai tutta l'Italia viaggia, poi il mondo in generale, ma l'Italia in particolare, dove ormai non si prende più nessuna responsabilità di niente, per una firma bisogna aspettare anni, ma che si viaggia a forza di emergenza. Abbiamo l'emergenza sanitaria, abbiamo l'emergenza economica, abbiamo l'emergenza maltempo, l'emergenza tutto economica, climatica, tutta un'emergenza, si governa con le emergenze. E quindi io ricordo benissimo, perché sono appassionato di meteo, quando invece molti anni fa le allerte, la protezione civile non le diramava quasi mai, cioè raramente. E puntualmente poi c'erano le polemiche al contrario, perché non venivano mai diramate. Poi dopo, siccome si finisce in tribunale, allora adesso basta che fa due gocce, subito le allerte. E così però non si governa, o si governa assolutamente male. Da una parte le responsabilità dei sindaci sono tantissime e quindi giustamente loro fino a un certo punto poi dicono, qui c'è un foglio, io faccio quello che devo fare e quindi poi tutto si ricade ovviamente su noi cittadini, quindi sulle famiglie in particolare. Però qualche danno l'ha fatto, ma soprattutto alberi. Se andiamo a vedere le pagine del Corriere Adriatico, per esempio, sempre di Pesero, rafiche fino a 95 km all'ora, strage di alberi, tribunale, pannelli a rischio di stacco, chiusa la strada, va messo in sicurezza il Palazzo di Giustizia, Pesero, Vigili del Fuoco, oltre 30 interventi. Poi invece il Carlino, alberi caduti, autodistrutte, onde alte 3 metri, il forte maltempo ha provocato molti disagi, danni e interrotto la circolazione da varie parti, i Vigili del Fuoco hanno risposto a 40 chiamate. Questa è la situazione di Pesero. Andiamo su quella di Fano, sacchi di sabbia contro le infiltrazioni, la pioggia mette le scuole alla prova, l'assessore Fanesi dice onda di maltempo, di intensità eccezionale, ma Fano ha retto l'urto. In particolare ha messo a dura prova gli infissi della scuola Galizzi, in centro storico, dove i volontari del Club Mattei della Protezione Civile hanno sistemato alcuni sacchi di sabbia. Grossi rami sono caduti anche sulle strade del territorio fanese, alberi giù anche a Fenile e Sassonia. Poi la pioggia che finisce in classe, gli alunni rimandati a casa, i bambini delle scuole delle seconde A e B della scuola alimentare Rodari costretti a lasciare le aule. Oggi le lezioni proseguiranno alla Nuti, mentre ha lagato il terreno che ricopre la vasca di accumulo dell'Arzilla, ma insomma nulla di anomalo, dicono quelli di Aset. Poi emergenza, maltempo e danni il maltempo, il vento mette KO molti alberi. Adesso invece parliamo di quella professoressa, di quella insegnante della scuola media Padalino di Fano di cui non si sa più nulla perché è sparita da qualche giorno. Si chiama Daniela De Matteis, ha 58 anni ed è insegnante di educazione fisica alla Padalino di Fano. Da due giorni ha fatto perdere le tracce. La donna nubile che vive da sola in una casetta in Moltevelcino è partita da casa, come al solito, intorno alle 7.30 per andare alla vicina fermata dell'autobus per poi arrivare alla scuola a Fano. Ma a scuola non c'è mai arrivata, dice e dicono chi la conosce. Ora è chiaro, adesso l'unico appunto, non so se è un motivo di famiglia, ma insomma quando sparisce una persona perlomeno ci si aspetta che i familiari o chi per loro insomma diano una fotografia quanto possibile, insomma una fotografia per riconoscerla anche perché uno potrebbe vederla, incontrarla per strada, insomma averla vista in qualche modo, segnalarla. Però foto non ce ne sono, quindi c'è una descrizione, sì, una descrizione vestiva con jeans, giacca scure, full art, stivali di pelle, aveva con sé il telefono e il suo portafogli, oltre a questo non sappiamo. E anche il Corriere non pubblica nessuna fotografia, quindi non si è presentata alla lezione, questo è il titolo, scomparsa docente di 57 anni, la donna da due giorni ha fatto perdere le tracce di sé, scattato ovviamente il piano di ricerca. Poi trovato morto in casa, angoscia a Sant'Orso per la tragedia di un camionista di 65 anni, gli agenti del commissariato di Fanno hanno ricevuto questo allarme intorno alle 14 di ieri, è stato trovato morto in questo quartiere di Fanno, il Sant'Orso appunto, questo uomo di 65 anni di cui parla il giornale questa mattina. Mentre sempre sul Corriere Adriatico i sicari di Bruzzese restano in carcere, davanti al giudice Fanno scena muta, convalidato il fermo dei due accusati dell'omicidio di Natale per mano dell'Andrangheta. Questa è la notizia sul Corriere. Poi riaprono le discoteche, ma con la mascherina, cinema e teatri invece al 100%, da lunedì tornano i locali da ballo al chiuso, però con il 50% di capienza, è andata un po' meglio rispetto a come era partita perché era 35%, adesso siamo al 50%, poi bisogna capire anche qui queste cose fanno, mi metto nei panni anche di chi gestisce, di chi ha investito soldi, di chi ha un'attività, questi decidono a tavolino il 35%, il 40%, il 50%, così, a casaccio. Se Salvini dice se arrabbia allora facciamo 50%, però se quell'altro sta zitto facciamo 3%. Cioè senza qualcosa di scientificamente provato si fa tutte queste cose sulla pelle della gente. Questo è lo scandalo per cui ancora siamo qui senza che nessuno muova un dito, ma io speriamo, vediamo dal 15 ottobre che cosa succederà. Secondo me non succederà assolutamente niente, però vediamo se cambierà qualcosa oppure continueremo a farci maltrattare in questo modo. e noi continuiamo a farci maltrattare. Poi coca, mezzo chilo in arrivo dalla 14, i corrieri intercettati dalla finanza, arrestate due donne di 36 e 32 anni che hanno tentato di sfarsi dalla droga, scoperte da un cane che ormai è diventato famoso, un po' come Rintintino, ormai Alex. E questa è la notizia che troverete sulla pagina del Corriere di oggi. Poi approccio, approccio sessuale in spiaggia, condannato a un anno e otto mesi di carcere, questo esibizionista che aveva molestato una quarantenne, ieri c'è stata la sentenza davanti al collegio del Tribunale di Pesaro per questo 23enne afgano accusato di tentata violenza sessuale. È successo tutto nel litorale fanese verso sud, in una porzione di spiaggia libera, lì in una insenatura piccola, scrive Luca Benelli dovrebbe essere sì, il fatto risale a luglio del 2020 e questo giovane alla vista di questa donna di 40 anni sugli scogli si è avvicinato e dopo i primi convenevoli ha cercato di attaccar bottone come si dice, ha estratto vabbè quello che è e poi ha iniziato a toccarsi e poi il resto lo potete leggere sul giornale. Piada Marina, addio invece il chiosco a Pesaro della discordia, addio forse no, perché? Perché adesso c'è un bando per un locale sul molo quindi potrebbe essere sfruttato per riaprire da un'altra parte, poco distante. Il presidente della commissione Petretti dice in quell'area comunque tornerà una attività. Il vero capo della Baby Gang invece, restando sempre a Pesaro, è il 13enne, scrive il giornale Il Carlino. Droga, furti, scorribande, lui c'è sempre. Non è ancora imputabile ma presto avrà 14 anni e diventerà perseguibile per legge. Di recente l'hanno trovato con la droga in hotel. Ieri intanto il 18enne arrestato per spaccio, rapine e furti, non ha risposto alle domande del GIP. I genitori non lo vogliono in casa. Sotto invece in Piazza Redi va meglio ma molti si rifiutano in qualche modo di parlare. I residenti, quelli che stanno lì, che ogni giorno devono un po' subire tutte queste scorribande e quant'altro, preferiscono non parlare, preferiscono stare zitti per evitare ritorsioni, dispetti e quant'altro. L'alunna sullo scuolabus sbagliato, un'ora e mezzo per tornare a casa. È la storia che troverete sulla pagina di Urbino del Corriere. Ovviamente il padre è arrabbiato, il padre che l'aspettava dice che questi disguidi non devono accadere. Parliamo di una bambina di 10 anni che torna a casa da scuola dopo un'ora e mezzo rispetto all'orario stabilito, poi tra l'altro non in una giornata di sole splendente come quella di ieri, ma insomma aumenta ancora di più la rabbia. Suo padre che l'attendeva la fermata ha rischiato l'infarto non vedendola scendere dal pulmino dove l'alunna avrebbe dovuto essere. Gli era stato comunicato poco prima via WhatsApp che a causa di un disguido tecnico gli orari del servizio trasporto scolastico potrebbero subire dei ritardi. Mia figlia di 10 anni però dice era finita in tutt'altra zona a circa 5 km di distanza da casa sua. Ed Eugenio Gulini racconta un po' lo sfogo, raccolto lo sfogo di questo papà giustamente arrabbiato. Poi invece il blitz a Sant'Angelo Invado dei carabinieri forestali che hanno individuato un cumulo di materiale vicino al fiume Metauro, rifiuti edili accumulati in un'area agricola, blitz dei carabinieri forestali, rischi ambientali per la vicinanza appunto del fiume. Da Urbino invece marciapiede da Santa Lucia è arrivata l'ora finalmente via i lavori per rendere sicuro il passaggio dal grande parcheggio che è quello appunto di Santa Lucia a zone strategiche come l'ospedale e le scuole. A quanto pare insomma questo marciapiede era atteso da molto molto tempo. Il terminal delle corriere di tante corse pubbliche non poteva rimanere ancora isolato. Andiamo invece sulla... ah no, che è finito? Abbiamo finito? Ah ok. L'ultima pagina. Pensiamo di aver selezionato anche lo sport ma lo sport evidentemente era sufficiente con i titoli della prima pagina del Carlino che abbiamo visto prima. Allora noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 20 e 30 come di consueto con il nostro telegiornale e quindi a me non resta altro che augurarvi una piacevole e serena giornata. Arrivederci.